Salve ragazzi, ben ritrovati qui sul canale. Avete presente quella sensazione che avevate da bambini quando dovete scartare il vostro regalo di Natale e non vedete l'ora di aprirlo per scoprire cosa c'è dentro? Beh, io in questo momento sono proprio così, un bambino che non vede l'ora di aprire il suo pacco. È arrivato qualche minuto fa, sono qui perché devo fare un unboxing molto molto importante per me e quasi inaspettato. Sono stato contattato qualche settimana fa da Lover, non so se la ricordate, l'azienda che ha realizzato questo qui, il selfie drone più piccolo che esiste al mondo, Lover X1. Lui lo possiede da un anno, avete visto qui sul canale la mia video recensione, ma soprattutto durante l'anno sicuramente se seguite il canale avete visto che l'ho utilizzato tantissimo durante i miei video in natura. Mi ha permesso di fare dei b-roll magari interessanti con riprese dall'alto, mi ha aiutato a auto riprendermi quando mi spostavo magari in natura, mi ha aiutato anche durante alcune riprese di backstage mostrando tutto l'ambiente circostante attorno a me, facendovi vedere quindi l'ambientazione, la situazione di luce eccetera eccetera. È stato utilissimo, non solo ovviamente per la fotografia ma anche in famiglia, mi è tornato utile perché ho portato a casa diversi ricordi molto interessanti. DJI però quest'anno ha deciso di non sottostare al primato dell'OVER, visto il grande successo, e quindi ha presentato un selfie drone super economico, quindi di prezzo molto inferiore a questo, con qualche caratteristica in più a livello di prestazioni, quindi riesce a registrare in 4K contro i 2,7K di questo e poi ha delle funzioni aggiuntive tipo l'utilizzo come drone FPV oppure gestione da telecomando, quindi con un telecomando remoto farlo funzionare come un classico drone radiocomandato. L'OVER X1 aveva la possibilità di essere comandato anche da smartphone ma ovviamente limitato al Wi-Fi, quindi si girava intorno ai 15 metri massimo la portata di questo drone. L'OVER però non si è fatta trovare in preparata da DJI e ha presentato ben due nuovi droni così su questa fasa riga, l'OVER X1 Pro e l'OVER X1 Pro Max. Il Pro riesce a raggiungere i 4K di risoluzione mentre il Pro Max addirittura arriva a 8K. E adesso oggi andremo a scoprire proprio come funziona, anzi oggi andremo a fare un unboxing per scoprire cosa mi hanno mandato perché l'OVER mi ha dato fiducia anche quest'anno, mi ha inviato il loro nuovo prodotto, oggi andremo a scoprire cosa c'è qui dentro perché suppongo che non ci sia solo l'OVER nuovo ma anche qualcosa in più, sì perché è stato creato veramente ricco di accessori, ma lo scopriremo oggi. Quindi se vi va andremo a scoprire insieme cosa mi è arrivato perché io non sto più nella pelle, non vedo l'ora di farlo volare. Ci vediamo dopo la sigla. Sono molto curioso di scoprire cosa mi hanno inviato. Il pacco è già bello pieno quindi ci dovrebbe essere tanta roba. Io direi di uscirla tutta e farvi vedere poi cosa c'è qui dentro. Mamma mia quanta roba, sono contentissimo perché avevo visto la presentazione ufficiale qualche settimana fa in giro su YouTube e sinceramente ero veramente entusiasta di questo prodotto perché ovviamente avendo provato il piccolo X1 dello scorso anno veramente ero super interessato a vedere come si comportava questa bestia. Lui è il Pro Max quindi la versione quella con le caratteristiche tecniche maggiori. Poi qui dentro abbiamo il Beacon che praticamente è un sistema di trasmittente che permetterà sia di vedere col piccolo display se il Over X1 è quello che sta filmando, soprattutto ha un GPS interno e un tracker che permetterà di farci seguire ancora con più precisione. Il tracker vi darà sempre al centro della scena anche se siete in gruppo e quindi seguirà solo voi, non si confonderà con gli altri perché avrete questo piccolo tracker oltre a essere ovviamente come vi dicevo un monitor e quindi vedrete cosa sta filmando e mentre lo sta filmando e poi servirà anche da telecomando ma poi questo lo vedremo più nel dettaglio. Qui dentro dovrebbe esserci una borsa e la andiamo a mettere qui anche lei. Questo è invece il power case, un case semi rigido dove all'interno andremo a mettere il nostro drone e lui lo caricherà in automatico. All'interno dovrebbe esserci una batteria da 12.000 mAh se non ricordo male e quindi quando noi infilate il drone per conservarlo lui automaticamente lo carica. Quindi mettete il caso che siete a fare un'escursione o siete a fare un viaggio utilizzate il drone, lo infilate qui dentro e lui automaticamente si ricaricarà, lo troverete sempre carico. E niente, questo è tutto quello che andremo a vedere oggi, adesso apriamo e vediamo un po' nel dettaglio cosa c'è dentro queste confezioni. Direi di mettere queste cose per ora un attimo da parte e iniziare col pezzo forte ovviamente col Pro Max. Confezione premium come premium purtroppo è il prezzo, non è facile da tirare fuori da qua dentro senza distruggere nulla ma ci sono riuscito, ovviamente non può competere con i prezzi della DJI perché ovviamente è un'azienda abbastanza piccola, meno conosciuta e quindi ha dei costi sicuramente maggiori. Però come vedete tutto fatto benissimo, confezione qui un case in pelle anche molto profumata, mi ricordo molto le vecchie confezioni delle GoPro che dicevano che fossero profumatissime e qui sembra che c'è quasi un'acqua di colonia messa su questa confezione. Qui abbiamo il nostro fogliettino di istruzioni base per andare a scaricare l'applicazione che poi ci permetterà di gestire il drone quindi dare le prime impostazioni. Qui abbiamo una guida completa, poi abbiamo qui dentro il sacchettino dove inserire il nostro drone per portarlo con noi e poi e qui dentro abbiamo il cavetto USB-C che torna ovviamente molto utile ma andiamo a vedere la confezione, guardate come è fatta bene, è in similpelle, la apriamo insieme, questo qui è la confezione combo dove abbiamo noi il nostro drone. Ve lo mostro da più vicino velocemente, ecco il Pro Max in tutta la sua bellezza, nuovo design, nuovi sensori, nuova fotocamera con gimbal doppio asse, sensore dietro e come vedete bellissimo anche il piccolo display col tasto funzione, totalmente rinnovato. Vi faccio vedere una piccola differenza di dimensioni tra il Pro Max e il vecchio Over X1. Come vedete è un po' più grande ma rimane sempre super compatto, super portatile. Un'altra cosa che poi noterete ovviamente anche le dimensioni delle batterie e qualche nuova chicca che troverete solo qui. Qui abbiamo il tasto accensione funzioni, classico come nell'altro Over e poi abbiamo l'aggiunta di un piccolo display per andare a vedere quale funzione abbiamo attivato. Quindi se abbiamo attivato ad esempio un Orbit oppure abbiamo attivato uno zoom out eccetera eccetera. Fotocamera con più alta risoluzione, qui leggiamo un 16 mm equivalente f2.55 quindi abbastanza luminoso. Il peso è leggermente maggiore rispetto a questo, 125 grammi contro 192 con tutta la batteria. E una cosa che volevo farvi vedere è che finalmente anche Over ha la classe C0. Quindi qua potete leggere, non so se sta mettendo a fuoco la fotocamera, classe C0. Quindi possiamo volare praticamente dappertutto senza infrangere nessuna norma, ovviamente seguendo le regole base. Qui abbiamo il caricabatterie doppio, molto simile a quello dell'Over X1 che io già possiedo. Ovviamente le batterie sono diverse, dimensioni diverse, capacità diverse. Questa batteria è da ben 1920 mAh. Sulla carta promette 17 minuti di volo, io direi che penso che arriverà intorno ai 13-14 massimo. Quella dell'Over X1 era data per 11 minuti e mezzo, circa 12 minuti. Io ci facevo circa 7 minuti, massimo 8 minuti di volo. E infine, non per importanza, il nuovo caricabatterie da ben 65 watt per poter caricare le nostre batterie dell'Over più velocemente. E niente, questa è la confezione dell'Over, ma non voglio annoiarvi, lo vedremo poi sicuramente in un video dedicato alla prova. Lo mettiamo da parte e andiamo a vedere invece gli altri. Allora, direi di partire da questo case che, oltre a contenere il drone, dovrebbe contenere anche alcuni accessori a quanto mi avevano anticipato. Vediamo, qui dentro non c'è nulla, c'è uno spazio vuoto. Qui abbiamo una fascia, nella tasca davanti invece abbiamo la cinghia per questa piccola tracolla, molto simpatica. E poi abbiamo un kit molto interessante perché, come vi dicevo, questo drone è super completo. Qui abbiamo un attacco magnetico che poi andremo a vedere che serve per il nostro bigon. Ve lo faccio vedere molto velocemente. Quindi, basettina magnetica con gancio rapido. Qui abbiamo una filettatura da un quarto e poi delle alette simile GoPro per attaccarle con l'attacco GoPro alla bici. E poi qui abbiamo anche un secondo attacco, molto simile a quello, però questo è con la clip. Quindi, simile a quello per agganciare la basetta, ma con una clip. Quindi, ottimo kit di accessori. Qui dentro abbiamo invece un kit per chi è più esperto e quindi vuole fare dei video un po' più particolari, sfruttando magari anche le ore più calde, più luminose. Qui dentro abbiamo un kit di filtri ND, che solitamente nei droni, diciamo, più costosi bisogna comprarli a parte. Solitamente sono di terze parti. Mentre l'Over li ha realizzati le stesse e quindi ha creato questo kit di ben quattro filtri. Qui dentro ci sono quattro filtri all'astra ND. Abbiamo un ND8, un ND16, un ND32 e un ND64. Questi, ovviamente, come vi ho detto, li andremo poi a provare direttamente quando faremo i primi voli, i primi test. Altro accessorio che c'era dentro la confezione è questo attacco molle, probabilmente da manubrio, sì, da manubrio, della bici. Qui con la nostra vite lo andiamo ad avvitare così e qui mettiamo il nostro radiocomando che adesso andiamo ad unboxare. Nel frattempo che ha inboxo tutta questa roba, le zanzare iniziano ad attaccarmi. Ma non male, io non mi interessa nulla, devo aprire questi pacchi. Qui dentro c'è il case, che vi avevo già anticipato prima, essere un case con power bank integrato. Noi andremo a mettere qui dentro il nostro selfie drone e lui si caricherà in automatico. Mettiamo questo da parte, ve lo faccio vedere. Con questo tasto possiamo vedere la batteria residua, in questo caso ci sono due tacche. E quando andiamo ad aprirlo in questo modo, al libro, andiamo a scoprire che qui c'è un'altra cinghia, un piccolo malamaretto e qui c'è un gangetto che devo capire a che cosa serve e dove dovrebbe andare. Il nostro selfie drone praticamente va qui dentro. Quando lo andiamo a chiudere, lui si caricherà automaticamente. Non ve lo faccio vedere adesso, ovviamente. Anche questo lo vedremo poi durante la recensione completa. Sistemiamo di nuovo tutto qui dentro e chiudiamo prima di rischiare di perdere tutto. Anzi, mettiamo qui anche la cinghia. Ok. Qui dentro invece c'è la parte più interessante, rendere praticamente questo selfie drone un drone vero e proprio. Con questo radiocomando, secondo la scheda tecnica data da Lover, dovremmo riuscire ad avere una portata massima di un chilometro, che non è affatto male per un drone così piccolo. Dovete sapere che il drone che avevo prima, l'Over X1, diciamo originale, piccolino, aveva una portata massima limitata a circa 20 metri, massimo 15-20 metri. Adesso con questo arrivare a un chilometro è in effetti un grande passo in avanti. Come vedete qui dentro c'è praticamente di tutto e di più. Abbiamo cavetti USB-C, USB-C e USB-C Lightning, perché qui possiamo anche attaccare il nostro smartphone per utilizzarlo come display, anche se qui abbiamo il nostro piccolo display. Una cinghietta, un cavetto proprietario con attacco magnetico per andare a caricare il nostro beacon. Poi abbiamo qui i nostri pulsanti stick per i nostri joystick e qui abbiamo il cervello principale di questo sistema, il beacon vero e proprio. Praticamente è questo qui, lo faccio vedere velocemente. Questo è il beacon, non so se riuscite a vederlo bene. Abbiamo due pulsanti funzione anche a joystick, quindi con più funzioni, il display che permette di vedere cosa sta registrando il nostro hover e qui laterale abbiamo il pulsante d'accensione. Lateralmente abbiamo praticamente il nostro microfono e qui dietro dovremmo avere anche una cassa. Ecco, sentite? Qui possiamo andare a cliccare e connettere il nostro hover e andarlo anche a comandare manualmente, ma questo lo vedremo ovviamente dopo. E qui abbiamo le altre due parti che vanno a formare poi il vero e proprio joystick. Quindi abbiamo una parte e una seconda parte. Ora una parte dovrebbe andare sotto e una sopra. Devo cercare di non fare confusione e capire qual è quella principale. Ok, è abbastanza semplice perché hanno attacchi praticamente diversi. Uno ce l'ha centrale e uno ce l'ha diviso in due parti, quindi molto intelligente così non potete scambiare le parti e fare danni. È magnetico, visto che praticamente se l'è tirato da solo e anche questo è magnetico. In questo caso così potremmo andare a montare i nostri stick qui sopra e quindi avremo un sistema di navigazione con un solo stick potremmo comandare oppure con due stick e facendo in questa maniera qui, uno e due, possiamo andare a incastrare qui il nostro smartphone e utilizzare il display dello smartphone invece di questo piccolo display. Ma volendo già così potremo comandare il nostro drone a distanza, come dicevo, fino ad un chilometro. E devo dire che è fatto piuttosto bene, abbastanza pesante. Queste parti qua mi sembrano costruite in plastica e metallo. La costruzione è veramente molto buona così di primo acchitto, quindi mi sembra un buon prodotto. Io lo proverò per un po' e poi vi farò una video recensione completa per dirvi come vi sono trovato e soprattutto farvi vedere cosa è capace di fare questo selfie drone. Sicuramente ci sarà modo e maniere di vedere qualche clip, qualche prima, primo video così esplorativo nelle prossime settimane. Cercherò di non tralasciare tutto e andare direttamente nella video recensione fra un mese, un mese e mezzo, ma vi farò vedere qualche assaggio di prestazione di questa attrezzatura sia su Instagram che su Facebook e magari anche su YouTube se volete. Quindi niente, questo video unboxing finisce qui. Volevo iniziare subito a vederlo. Direi io invece di chiudere qui il video e andarlo a provare, fare il primo volo, vediamo se la batteria me lo permette. Noi ci vediamo presto qui con un altro video, ovviamente in natura perché ci sono diverse uscite che vi voglio mostrare. Ci vediamo presto. Ciao ciao ragazzi, alla prossima. Grazie a tutti.